È per noi un onore e un piacere accompagnare il Teatro Nazionale in questo nuovo lavoro importante, Villaggio. Non è la prima volta che lo facciamo, abbiamo a suo tempo accompagnato il Teatro Nazionale con l'opera di Maria Stuarda. Villaggio è una maschera della nostra città, una figura tragicomica nel carattere sardonico dei Liguri. Quindi siamo molto contenti, soprattutto sottolineo che crediamo molto in questa collaborazione con il Teatro Nazionale e installeremo dei totem nel centro cittadino per promuovere questa iniziativa. Proprio perché si ride e si ride di noi, si ride della nostra resistenza alla sconfitta eterna attraverso di lui che diventa un eroe tragico. Fantozzi è un eroe tragico, è la vera maschera della nuova commedia dell'arte e portarla in teatro santifica in qualche modo, regala i crismi definitivi al fatto di poter essere non solo replicabile e interpretabile, perché la cosa straordinaria di una maschera come questa è questo, il senso profondo dell'operazione, che da adesso in avanti il ragioniero Ugo Fantozzi, matricola eccetera eccetera può essere interpretato. Abbiamo attinto dai primi tre libri, nei primi tre libri abbiamo organizzato sul fantasma formale, architettura formale della tragedia classica, quattro atti con prologo epilogo, con i cori alla fine dell'atto e abbiamo organizzato in maniera tematica Fantozzi e le donne, Fantozzi e la coscienza di classe, Fantozzi e lo sport eccetera. Per la prima volta Fantozzi si distacca dal suo creatore e suo unico interprete, per cui è una bella sfida, ma è successo anche con Arlecchino che a un certo punto potesse essere interpretato anche da altri e lo stesso ragionamento abbiamo fatto io e Davide Livermore, per cui insomma è una sfida importante, rischiosa, però plausibile. È ancora attuale non tanto per la società che descriveva allora, ma per l'archetipo del perdente, dello sfruttato. Purtroppo la società è molto peggiorata in questo, perché Fantozzi aveva una casa di proprietà, una famiglia stabile, riusciva ad andare in vacanza e aveva la pensione praticamente garantita. Quindi adesso è tutta roba da fantascienza, però l'archetipo dello sfortunato a cui ne succede di ogni, che è vessato non solo dal destino, ma anche dai compagni di lavoro, dai dirigenti, beh questo purtroppo è un modello che non tramonterà mai, anzi.